Se volete acquistare crediti andate su www.footmart.com e con il codice DREAD avrete uno sconto incredibile Bene ragazzi e bentornati qui sul mio canale oggi Signori, io già ve l'avevo un po' anticipata, ve l'avevo un po' detta questa serie Ma non vi avevo detto niente di che Perché oggi siamo arrivati, è arrivato il giorno della sfida incredibile tra me e Dexter, signori Tra me e Dexter No, no, gliel'hai spoilerato, gliel'hai già spoilerato sta cosa Non va bene Non va bene È brutto spoilerare le cose Comunque, ciao a tutti amici, sono il vostro caro Dexter Allora oggi siamo qui con una squadra di pico Merda, di merda Praticamente cosa consiste questa piccolissima minuscola serie Ci saranno tre sfide, una con la squadra a bronzo oggi, una con la squadra a argento e un'altra con la squadra a oro Ogni sfida sarà completata al meglio delle tre Quindi chi ne vince due su tre di ogni sfida sarà il campione del quartiere Del torneo Del quartiere Del parchetto Allora, ora vedrete le nostre fantastiche squadre bronze Tu spiegami, ora che vedrai la mia squadra, com'è possibile che i terzini ci hanno 5 da intesa Ma perché te hai invertito i tuoi terzini? Ah, ecco perché sono idiota Sì Vabbè, adesso li cambio allora No, questi già sono bronzi, se gli inverti pure posizioni, non capiscono un cazzo Dai, su Te lo dico, i miei attaccanti hanno 1600 di velocità all'uno No, io ho un attaccante 90 che è quello nero Strano E poi ho il pisellone là, il pennellone che non so chi cazzo Via così con violenza Non ho azzeccato mai il passaggio, ci saranno mille fail Ecco Sì sì sì, partite proprio a centrocampo, combattute a centrocampo, chi è questo? Non sappiamo neanche i nomi No, i nomi non esistono, cioè tutto sbagliato A parte lui, a parte lui Fregapane Che se ne va Fregapane Sei chiamato il serio Fregapane? Eccolo Fregapane Lo vede in profondità Chi è sta pippa? Grande Poi chi difensori c'hai? Cioè, difensori più forti del mondo, non te lo volevo dire Dai Allora, questo qua penso che faremo un t Cioè, chi segna vince questa rega? Ma se tipo io tirassi da qui Non sarebbe una bella idea Attenzione Oh Noi Gol, ti prego, entra Oh Ah, ma skill incredibili Mamma mia Con il bronzo Questo si è persopato Via così, riparte il fritella Oduro Oddio Oduro Troppa fatica Vai Oduro Corri Oduro No Rega, un mostro E' una partita combattuta Che secondo me, guarda, chi segna vincere sul serio Sì, sì Se segniamo Non era per lui, calcola Però la Brrr Addirittura è il tacco Di là Vai così Completamente a vuoto Liscio, te prego Niente Brrr Vabbè che è un bronzo, però, dai Ho capito, non si sa mai Nolli Ma Che partita emozionante Ma non è possibile che sbagliano tutti i passaggi Forse perché sono dei gran pipponi Ho capito, va a sti livelli Ha cercato di prendere il pallone Non c'è Attenzione, c'è Fregapane Che fa una skill a caso Fregapane, se ne va Dagliela Chi è questo? Sacco No Oh Gran numero Peccato Ma fregapane, c'ha tre stelle skill Taccato, fa il gioco Oddio, è scivato da solo Che? È scivato da solo Non l'ho fatto Si controllano Via, via Messi Il possesso palla Perché quello è Messi Ah, quindi è tutto fallo No Vai, Sacco Ha fatto una parata il tuo portiere I filli I filli Che è questo? No, i corri Ma non è vero Ma mai nella vita Che è questo? Da solo Oh Non era fallo Non puoi capire la fatica che sto a fare Non puoi capire Sono dei bronzi De riace, no? De bronzi normali Via, sono delle statue Taglia la fregapane Corri Vai così di tacco Non si capisce nulla Non mi chiedere cosa è successo Oh Perché la passa Continua a passarla a te? Non lo so Anch'io la passo Non lo so Sto cercando di fare un'azione Ma è impossibile farla Me la ripassi Non riesco a passarla ai miei Tira No, è fuori gioco Aveva fatto un gol Aveva fatto un gol Vi ha 45 gioco Via ultimazione Mamma mia Signore, un primo tempo La velocità Di sostanza La classe di questi fenomeni Guarda, ora parte la skill Mi ha fatto l'archiaio Attenzione L'ha visto Scatta Maledetto Ripponere me Attenzione È Godzilla È Godzilla Quella alto Un metro e cinquanta Non gliela posso Pfff Cose Ripponere me Stanno tutti morendo Rove Ma no Ma no Ma no Questo è peggio De roben Ricordi Ricordi Fai qualcosa col tunnel Se ti faccio il doppio Passi col tunnel Voglio con il cash Ripartiamo Il contropiede Corri Non lo so Corre tanto questo Passala No Vai Vai pennellone Vai pennellone Pennellone Maledetto Si sono persi Palla tutte e due Ok E poi Da un fallo Corri Dai che quello è alto Crossa No Fuck Uccidilo No Non è fallo Non è fallo Mai Palla piena Non scattano Qualcuno Non vogliono scattare Ce ne deve Pensa a lui Fregapane Vai fregapane Tra l'altro Ho tirato con il piede Sbagliato Però ok Ok Si No Era il gol della vita No Quintavo da youtube Cioè chiudevo il canale Oddio che fucilata Mettino in mezzo Fallo di testa Che brutto di testa Tanto adesso arriva il call Che bug Cosa cazzo succede Guarda che l'ho detto Guarda che l'ho detto Guarda Se te porti zella da solo Te porti zella da solo Cioè l'hai chiamato te Io non ne esulto neanche Ma quant'è alto poi il tuo Ma perché il mio di pote Non si è buttato Ha salutato No salutava Ha detto guarda Ha detto ciao Ciao Ci proviamo Facciamolo viaggiare Mamma mia che grande scopo Che cosa sta succedendo Ci prova Come hai fatto È buona Lo so per il portiere Che cazzo fa No Era un tiro vero Era un tiro Ve lo fa tipo stanco Vici Carpentieri Corre Corre come l'antanato No Merda Perché Vai con l'ultima azione 89 Pallo partire sulla fascia Qualcuno che parte Mandalo Marca qualcuno No No fallo Fallo tuo Fallo mio Madonna Che gli ha tirato Una fucilata No Non si sa come Fuori gioco Tu anzi Infortunato No dai Stai notando Come cazzo è possibile Comunque non è umano Vabbè Questa partita purtroppo è persa Lascia la palla Vabbè signori La prima partita ha vinto ad Exer Con una grande prestazione Dell'attaccante Di cui non ricordo assolutamente il nome Markanken Markanken Lui è chiaramente di origine Molletto Markanken è comunque Chiaramente di origini Sudafricane Comunque signori Raviamo a 30.000 like Per questa sfida E fra qualche giorno Vedrete la seconda Sempre qui sul mio canale Sempre con la squadra bronzo Se vince la Dexter Anche la seconda Si passerebbe immediatamente Alla sfida Argento E quindi come ho detto Lasciate un like Un commento Sotto nella descrizione Lascia il canale di Dexter Bella Ciao Markanken Markanken Ricordate che in descrizione C'è G2A per giochi E abbonamenti Scontatissimi